Ciao, sono Mimmo e il tuo videomay. Quello che vedrai purtroppo. Quello che devo salutare e mandare i cuoricini? Sì. Ah, ok. E come ti chiami? Sabrina. Sabrina, dove vieni? La Mecce Terme, Calabria. Pizza, qua vicino. Eh, no, 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 vabbè, però sto a Modena, lavoro a Modena. Sì, sì. Ah, ecco. E' felice. Cosa? E' felice. No, no, perché? No, no, no. Un'altra cosa, facciamo un'altra cosa. Tieni questo così. Il tuo capo che ti guarda. Ti guardano. Questa è la nostra testa. È arrivato un ragazzo, una ragazza, un bacco, perché due erano infernari. Tutti e due anche loro di giù, come è qui. Lavorava all'ospedale a Parma e lui lavora. 70 secondi di caduta libera. Ce n'è tanti che... No, noi siamo poliziotti, quindi no. Siete? Siamo poliziotti, quindi... Ah, vabbè, c'è di a casa, qua ce n'è. Sì. Sì, è molto difficile. Sì. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti